La società Sirpa che gestisce gli impianti di Colere è a rischio chiusura a causa delle pesanti perdite. Il sindaco di Colere Franco Bellingheri, che anche nel Consiglio di Amministrazione della società, conferma in un articolo pubblicato oggi da Lico di Bergamo che la società che gestisce gli impianti sta attraversando un periodo non roseo. L'ultima stagione invernale, tra le peggiori degli ultimi anni, ha aggravato la situazione. I conti sono in rosso e le cifre si aggirano intorno ai 500-600 mila euro. Il Consiglio di Amministrazione si sta dando da fare per trovare il modo di coprire il buco e sistemare perlomeno le questioni più urgenti, ma è difficile in questo periodo trovare disponibilità di liquidi da parte delle banche. Se si riuscisse a recuperare anche solo 200 mila euro, si potrebbe perlomeno garantire l'apertura estiva degli impianti. Le seggiovie attualmente sono ferme e domattina chi vorrà assistere alla corsa non competitiva Colere Rifugio Albani dovrà necessariamente salire a piedi. Pare che alla società degli impianti abbiano tagliato la corrente per alcune bollette non pagate. Settimana prossima ci sarà un incontro con un istituto di credito, ma in caso di risposta negativa per la società degli impianti si profila il rischio chiusura.